Sì, onestamente è stata un po' una vittoria che aspettavamo da tanto tempo, ero doppiamente felice anche per non aver subito gol, visto che nelle ultime gare abbiamo subito un sacco di gol e non è mai una cosa piacevole per me, ma in primis una vittoria importante che ci fa intanto allontanare da quei bassi fondi che non rispecchiano il nostro valore, ma spero che oggi, come avevo detto in settimana, questo sia un punto di partenza con tanta umiltà, saper fare anche questo tipo di partite magari non bellissime come spesso può accadere in questo campionato e portarle a casa così soffrendo anche fino alla fine ma tenendo testa comunque un avversario che davanti aveva gente di qualità e quindi siamo contenti e adesso dobbiamo continuare così. Lavoreremo sui particolari come abbiamo fatto questa settimana con un occhio di riguardo magari alla fase di non possesso che oggi credo sia venuto discretamente bene e un complimento anche a Coulibaly che non giocava da tanto tempo e che oggi credo abbia fatto una partita di sostanza davvero importante in mezzo al campo perché comunque non dimentichiamoci che è un ragazzo giovanissimo, a volte è stato un po' criticato però comunque è molto giovane e oggi in mezzo al campo ci ha dato una grande mano e la speranza più grande adesso è di fare una grande partita ad Ascoli perché sappiamo bene l'importanza di questa partita, sappiamo che con una vittoria ci possiamo leggermente riavvicinare ai nostri tifosi magari che sarebbe un altro punto di partenza visto che ad oggi giochiamo in questo clima che ci siamo creati noi con prestazioni deludenti ma se riuscissimo a avere una partita battagliera ad Ascoli magari portando a casa a bottino pieno siamo sicuri che sarebbe un passo di riavvicinamento importante con i nostri tifosi grazie 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 grazie